Torna la lotteria di Natale della Croce Verde 2014, nuova edizione, nuovi premi importanti. Chiediamo a Paolo Magagnini come sta andando. Sta andando bene, cioè perlomeno nel nostro punto vendita sul porto a Portoferraio. Poi abbiamo tutti i negozi, che li risiediamo sempre negli ultimi due giorni, perciò si spera che vada bene, perché quest'anno in particolare noi come Croce Verde abbiamo rinnovato i nostri mezzi, abbiamo comprato due ambulanze nuove per l'emergenza, abbiamo comprato un doblò per servizi sociali, perciò ci serve in particolar modo l'aiuto che ci dà la popolazione acquistando i biglietti, sempre dandoci fiducia come tutti gli anni. L'appuntamento per l'estrazione? L'appuntamento per l'estrazione come al solito è in piazza Cavour il 10 di gennaio, sempre il sabato dopo la Befana, durante uno spettacolo musicale di tutti gli artisti locali. Si farà questa lotteria come sempre e si spera che la gente lì venga. Tra che ci sono voglio fare un appello, perché noi il 18 di gennaio inauguriamo questi tre mezzi e avrei piacere che la popolazione che con i biglietti ha contribuito all'acquisto fosse tutta presente. Faremo una festa, ora non so dove in piazza, sul porto, non lo so, dove invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a vedere questi nostri mezzi che sono veramente eccezionali. Il primo premio della lotteria di Natale è una Fiat Punto, il secondo un orologio Lockman modello avviatore, al terzo un cofanetto Smart Box che prevede tre giorni in un centro benessere per due persone. Al possessore del quarto biglietto estratto andrà un set di acqua dell'Elba, il quinto premio invece un televisore LED, il sesto un tablet e il settimo uno smartphone. All'ultimo biglietto estratto andrà una stirella dei longhi.